Teresa, la seconda puntata sarà il 24 con Riccardo Di Leva e ci fermiamo qui per questo primo mese, annunceremo le altre due nella serata di Riccardo Di Leva, quindi adesso buona serata, tra l'altro una serata di una domenica, quindi spero che vi troviate bene, mi dispiace che il ristorante in questo periodo viene aperto solo per i banchetti, per le riunioni di famiglia, cioè delle manifestazioni con ognuno eccetera, perché altrimenti avrei detto assaltate le cose che preparano che sono veramente buone, non dovrei dirlo, quando volete venite a bere un caffè da queste parti e adesso buona serata. Grazie.